La mia collega è attaccata via alla mia stanza, non fino alla mia stanza. La mia collega è attaccata via alla mia stanza, non fino alla mia stanza, non fino alla mia stanza. La mia collega è attaccata via alla mia stanza, non fino alla mia stanza, non fino alla mia stanza. La mia collega è attaccata via alla mia stanza, non fino alla mia stanza, non fino alla mia stanza. La mia collega è attaccata via alla mia stanza, non fino alla mia stanza, non fino alla mia stanza. La mia collega è attaccata via alla mia stanza, non fino alla mia stanza, non fino alla mia stanza. Grazie a tutti.